L'infermiere Domenico Sinopoli al centro dello scandalo con l'accusa di aver abusato di pazienti oncologici si sarebbe anche vantato di avere amicizie importanti nell'Ametino, pronti a intervenire in suo soccorso. In questo modo l'uomo avrebbe minacciato le vittime e personale sanitario per impedire di svelare quanto accadeva nel reparto di oncologia dell'ospedale dell'Ellis Ciaccio di Catanzaro. Il 44enne Domenico Sinopoli dovrà rispondere di violenza privata e peculato. Ciò riguarda una somma di denaro equivalenti a 120 euro che un paziente gli avrebbe consegnato per pagare una visita ematologica da ottenere in tempi brevi, ma mai avvenuta. L'episodio era stato raccontato dal figlio di un paziente a una dottoressa del reparto. La vittima aveva paura di raccontare il tutto per non rischiare di subire ritorsioni sull'attività commerciale che il figlio gestisce. Questa è una delle tante testimonianze che si trovano al centro delle indagini svolte dalle fiamme gialle. Sono stati ascoltati diversi testimoni che secondo l'accusa avrebbero appunto confermato i comportamenti dell'indagato che avrebbe abusato delle condizioni fisiche e psichiche dei pazienti costringendoli a subire atti sessuali. In particolare secondo quanto emerso sarebbero stati numerosi gli episodi consumati nell'arco di circa un anno dentro le mura del presidio ospedaliero dell'Ellis Ciaccio, adesso Renato Dulbecco. Le indagini infatti avrebbero consentito di delineare un quadro caratterizzato da svariati episodi.